Atto conclusivo per le forze politiche che hanno dato il via il mese scorso ad una raccolta firme per indire un referendum sulla sanità. Dopo i banchetti allestiti lungo corso Matteotti, venerdì sera alle 20.30 scenderanno uniti in piazza 20 Settembre a Fano per consegnare la lunga lista di adesioni al sindaco Massimo Seri. Il comitato che ha sostenuto l'iniziativa denominata Io Firmo per la Salute è composta dal Movimento 5 Stelle, da Bene Comune, possibile lato a Fano, da Riscossa Fanese, dal Movimento Radical Socialista e dal Partito Repubblicano. Venerdì sera abbiamo organizzato questa manifestazione che sarà il momento conclusivo di questo mese di raccolta firme. Ancora non abbiamo avuto risposta dal sindaco che abbiamo invitato formalmente, siamo andati personalmente a invitarlo nel suo ufficio, ha detto che ci avrebbe fatto sapere e ancora non abbiamo saputo nulla. Naturalmente l'invito è quello alla cittadinanza di partecipare numerose, non abbiamo grossi dubbi perché l'adesione durante i banchetti è stata veramente molto forte, file i banchetti, fino ad oggi abbiamo concluso la raccolta firme e siamo arrivati a 3.600 firme. Questa iniziativa invito è aperto alla cittadinanza. Certo, infatti invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, visto che parliamo sempre di sanità, sempre di ospedale ed è ora di farsi sentire. Quindi venite tutti in piazza e fatevi sentire. Difendiamo la nostra sanità pubblica.